A tutti voi buona giornata, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Nella nostra regione una impresa su 5 è a rischio chiusura per i rincari energetici, quanto emerge da un'indagine di Confartigianato che è stata presentata questa mattina a Udine. Le realtà del territorio reagiscono trasformandosi in autoproduttori. Ecco allora che nei settori produttivi si è passati da un migliaio di impianti fotovoltaici nel 2010 a oltre 6.000 nel 2021. In Friuli Venezia Giulia sono circa 17.500, una su cinque, le aziende con più elevata intensità di utilizzo di gas ed energia elettrica e quindi maggiormente a rischio di chiusura per i rincari energetici. È quanto risulta da un'indagine condotta dall'Ufficio Studi Nazionale di Confartigianato Imprese, illustrata questa mattina nella sede del CAFCA a Udine dal presidente di Confartigianato Imprese Udine e regionale, Graziano Tilatti, alla presenza del governatore Massimiliano Fedriga. A fronte di questo scenario, è stato spiegato dal curatore dell'indagine su scala regionale Nicola Serio, le imprese tendono a trasformarsi in autoproduttori di energia, avvalendosi anche della competenza di 2.373 imprese artigiane che in regione sono attive nel settore dell'impiantistica con quasi 6.200 addetti. Nei settori produttivi, ha detto, si è passati da 1.083 impianti fotovoltaici nel 2010 a oltre 6.303 nel 2021, in media circa il 7% delle imprese regionali ha un impianto con pannelli fotovoltaici. Confartigianato Imprese Udine, ha evidenziato Tilatti, ha già sperimentato l'importanza di sviluppare progetti di sistema attraverso lo sportello energia creato e promosso più di dieci anni fa. L'Associazione degli Artigiani punta a promuovere un accesso efficace ed economicamente adeguato al mercato da parte delle imprese associate, anche attraverso la stipula di convenzioni bancarie per l'accesso al credito specifico. Tilatti ha riferito che sono state già raccolte 35 adesioni di aziende specializzate in provincia di Udine. Una scossa di magnitudo 3.0 è stata registrata alle 2.42 della notte scorsa nei pressi di forni di sotto. Il sisma, verificatosi alla profondità di 14 chilometri, è stato avvertito in maniera leggera, relativamente poco e sono state le chiamate arrivate al centralino della sala operativa della protezione civile regionale. Non si registrano danni a persone o a cose. Diversa, decisamente diversa, drammatica la situazione invece a Ischia. Sul fatto è intervenuto anche il presidente della regione, Massimiliano Fedriga. È un dramma e in questi giorni non è certo il momento di fare delle polemiche. Sono i giorni della solidarietà e degli aiuti alle famiglie. Ha detto Fedriga, oggi a margine di un incontro a Udine come Regione Friuli-Venezia-Giulia. Abbiamo dato la piena disponibilità ad essere utili per dare risposte immediate. Altre valutazioni saranno fatte nelle prossime settimane. 75 mila capi di abbigliamento prodotti all'estero con l'etichetta Made in Italy sono stati sequestrati in A4 dalla Guardia di Finanza. Valore stimato della frode circa 8 milioni di euro. Le etichette riportavano la dicitura Made in Italy e per richiamare la qualità e la tradizione del bel paese c'erano anche fettucce in stoffa con il tricolore. Peccato però che i 75 mila capi di abbigliamento caricati su un camion fermato dalle fiamme gialle in A4 fossero stati prodotti e confezionati in Bulgaria, Albania e Tunisia. Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Pordenone. L'operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza di Portogruaro. Tutto è nato da un controllo in autostrada effettuato nella stazione di servizio Fratta Nord tra i caselli di Portogruaro e Sanstino di Livenza dell'A4. Su un auto articolato proveniente dalla Bulgaria è stata trovata l'ingente quantità di capi di abbigliamento destinata ad una nota azienda di produzione nel Bresciano. Con la scritta Made in Italy, nonostante la stessa documentazione di accompagnamento attestasse la provenienza bulgara. Le successive indagini hanno permesso di accertare che le fasi di lavorazione, fabbricazione e confezionamento dei capi avrebbero avuto luogo esclusivamente all'estero, in contrasto con quanto disposto dalla normativa specifica del settore. L'autorità giudiziaria ha denunciato sei persone e ha emesso decreti di perquisizione e sequestro nei confronti di oltre 400 negozi in Italia, clienti della casa di moda bresciana e rivenditori ignari delle false indicazioni d'origine dei capi. 4.800 quelli sequestrati. Sono 82 le vittime, solo in Friuli Venezia Giulia, di incidenti stradali nel 2021, numero elevatissimo, quasi il doppio rispetto ai numeri del 2020. E' quanto emerge dal report dell'Istat sugli incidenti stradali per lo scorso anno, che nella nostra regione sono stati 2.970. In totale i feriti sono stati 3.712. Dati in crescita rispetto all'anno precedente, segnato da lockdown e limitazioni alla circolazione, ma che comunque fanno ben sperare riguardo all'educazione, alla sicurezza stradale. Negli ultimi dieci anni, infatti, i decessi e anche il numero di incidenti sono notevolmente diminuiti. La maggior parte dei sinistri è avvenuto sulle strade urbane, ma sono anche gli incidenti che in proporzione hanno causato meno vittime. È un'immortalità più alta per gli incidenti su strade extraurbane e su autostrade, dove in media si conta una vittima ogni 12 incidenti. In onore della vittoria, come prima donna e prima americana a vincere la regata velica Barcolana 54 a bordo della Deep Blue, la filantropa Wendy Schmidt, moglie di uno dei fondatori di Google, ha annunciato che donerà 100 mila dollari al biodiversitario marino, il bioma, nell'area marina protetta di Miramare, gestita dal WWF Italia. Non gareggio in barca vela solo per vincere un trofeo, ha detto Schmidt, nel corso di un video collegamento con Trieste, ieri, ma per sfruttare il momento sotto i riflettori, per incoraggiare coloro che amano la vela a unirsi a noi nella salvaguardia degli oceani. Nuovi importanti risultati per la campagna di scavi dell'Università di Udine ad Aquileia. Questa volta sono state riportate alla luce vaste aree dell'impianto termale cittadino, crollate e saccheggiate già in epoca antica, ma ancora riccamente decorate. Grandi vasche mosaicate per i bagni in acqua fredda e in acqua calda, fontane e delle vere e proprie saune. Non smettono di stupire le terme romane di Aquileia, che con le campagne di scavo dell'Università di Udine, tornano alla luce del sole. Dal terreno a questa volta sono emersi due nuovi ambienti, un'area mosaicata che ospitava fontane e statue, oltre ad un'ampia vasca di 8 metri di diametro, e l'abside dell'area chiamata Calidarium, dedicata all'acqua calda e i bagni di vapore. È emersa anche parte della complessa struttura interna delle terme, che portava l'aria calda dai forni esterni fin sotto alle piscine, in modo che l'acqua fosse sempre la temperatura adatta per gli aquilesi che vi si recavano. Entrambe le aree, alla fine dell'impero, nel corso del Medioevo, vennero spoliate di molti beni e in parte demolite, ma negli scavi sono emersi anche alcuni segnali della ricchezza di chi le frequentava. Gli archeologi hanno infatti trovato un grano di collane in vetro, ornato con una testa femminile. Queste nuove zone si vanno ad aggiungere a quelle già scoperte, con l'enorme frigidarium, dove si potevano fare i bagni in acqua fredda, la parte centrale della vasta piscina lastricata in cui si nuotava e gli ambienti riscaldati della zona occidentale. I risultati dello scavo delle grandi terme sono di grande importanza, ha commentato il direttore della Fondazione Aquileia, Cristiano Tiussi, perché la prospettiva della valorizzazione di questo straordinario ed enorme edificio dovrà rappresentare una sfida ineludibile in un futuro non troppo lontano. Aumentano negli ultimi sette giorni in Italia i contagi da Covid-19, che segnano un più 10%, e crescono anche i ricoveri ordinari, più 9,1%. Tornano a crescere i decessi, più 8,8%, mentre restano sostanzialmente stabili le terapie intensive. quanto rileva il monitoraggio della Fondazione Gimbe rispetto alla settimana 18-24 novembre. La Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati ha reso noto oggi attraverso un comunicato che la cerimonia istituzionale del giorno del ricordo del 2023 si svolgerà al Palazzo del Quirinale a Roma con l'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Noi ci fermiamo qui, tra pochissimo appuntamento sempre in diretta, con a voi la linea. Arrivederci. Grazie a tutti.